Boh, va bene, eh, ho qualche altro mezzo OH GANG BOY Il nostro cheater di fiducia Ha ucciso tutti Vuol dire che avrà citato per davvero Io non lo so Ragazzi lo vedete questo cubo giallo Che abbiamo in testa è perchè oggi Facciamo le cubo lucky block in compagnia Di un fan, lo prendiamo così a caso Perchè volevo fare le cubo in compagnia Di qualcuno che ci segue quindi ho avvisato Nei miei vari canali, nei miei vari social E siamo qua con tantissimi fan Cioè otto dei fan prescelti Che hanno avuto la fortuna di entrare E entriamo nella cubo lucky block Siamo in compagnia di gang boy Che è un nome bellissimo Ma perchè i lucky block sono una spugna? Non mi ha caricato la texture del lucky block Ma che sfortuna, vabbè speriamo che questo gang boy Sia bravo, faccia il bravino Che non sia una persona Dovakin A parte ragazzi questa qui è la mia mappa preferita Perchè non posso colpire il dovakin? Perchè? Mover, io me ne vado dal dovakin col mover Ehm, speriamo di non cadere Comunque ragazzi Lasciate un bel like Iscrivete al canale se ancora avete fatto Perchè dovete iscrivervi Visto che in tanti guardano i video Ma ancora non sono iscritti Iscritti Comunque ciao gang boy Bruciamo lenti si fiori del mare Credo che sia un fan della dark polo gang Questo gang boy Black hole Ma ragazzi Allora Gang boy Vai a bardare Vediamo se ci ascolta un attimino questo nostro amichino gang boy Intanto Fede è bruciato Viva un creeper Ok scusami gang boy Eh sto dovakin vuole per favore abbandonare il mio amico gang boy Che che... Ok perfetto Allora Barda tu Io citto No scusatemi un attimo ragazzi Ho la scale della chat Piccolissima No Non fatemi prendere la marcite Perchè ogni volta che lui entra nel server Trova tutti quanti che citerli hacker Ragazzi ha scritto esattamente Barda tu io citto Come citti Cioè scritto così Cioè cetti Eh si scrive un attimino meglio Non ho capito questa cosa Un altro hacker in questo server Allora Questo server qua non è un server di hacker È prima che ogni volta che entriamo noi Li troviamo Ci va un po' sfortuna Imprenditori senza diploma Ok è assolutamente un fan di Sfere Basta E Eh di Della Dark Polo Gang Va bene Abbiamo scusato questa cosa Ma il Dovakin È forse Il mob che viene droppato di più nei Lucky Block Di queste isole Allora Dov... Ma non vuole morire questo Dovakin Eh Con solo quarco e frecce Eh Ce la facciamo a col... Oh non capisco niente Perché ho usato una Ender Pearl Vieni Cosa vuol dire Gang Boy Vieni Eh ok grazie Dove Mark ti segue un botto Se mi tu hai preferito Ciao D237best Allora Gang Boy mi ha chiamato Ciao Gang Boy Grazie per... No Eh scusa Ragazzi ma che cacchio ha No Impazzito No Ma sei rivelato un hacker Gang Boy Vabbè Vai Vai a cittare Da un'altra parte Così vinciamo Vabbè ragazzi Io non ho parole Ma è davvero un hacker Gang Boy Probabilmente Vediamo allora Vediamo se in chat si lamenta No Vuol dire che Non capisco Ha delle rotazioni strane Come se ogni tanto Attiva le hack E poi le disattiva Ci sta qualcuno No Ok perfetto E lui che ha trovato qualcosa Perché Ho seguito il vetro Il vetro rompersi I mob Mi ha colpito al volo Allora Vediamo se abbiamo delle enderpearl Abbiamo delle enderpearl Ma non ho un piccone Qua abbiamo il nostro amico Gang Boy Fede chiede Se hai ossidiana 4 kg sul collo Mi proteggo Con le mani dietro Ragazzi Questo Gang Boy Credo che sia un fan Un po' citerino Perché avete notato anche voi Che muoveva male la testa Appena ti avvicinavi Come NPC Come player Anzi Facciamo una cosa Scrivetevi qua sotto Nei commenti Se per voi Gang Boy è un hacker Perché appena si è avvicinato Come avete notato Si muoveva in un bruttissimo modo Ok Si è spaccato le gambe No XX Gaming Come ti chiami Un nome strano Non mi faccia del male Per favore Eh ragazzi È finita per noi Mi sa eh Speriamo che questo amichino qua Ci lasci tre Per favore raga Ha scritto certo Non so se fidarmi Il nostro amico qua Dovrebbe cittare E Volare in alto E far si che Questa cosa non può succedere Invece non succederà mai ragazzi Vediamo se non questa Tenetti lo colpiamo Ragazzi Speriamo ci lasci tre A sto punto Non so cosa aspettarmi Da questo bomber Che ci sta rompendo subito Il nucleo Appena inzita la partita Però beh Speriamo ci lasci tre Comunque abbiamo trovato Bob Ma io voglio trovare un piccone Che io senza il piccone Non posso andare avanti Ma perché non posso colpire I mob oggi Sono scemo Se è chiuso con l'ossidiana Gang Boy è molto cattivo Speriamo che citti E E Il problema è che l'ha insultato E potrebbe incattivirsi E romperci il nucleo Sta cosa non va Ci ha lasciato tre però ragazzi Eh Grazie Grazie mille Ci ha lasciato tre solo perché Ci stima tantissimo Vabbè No ma Gang Boy Per favore Non faccia il cattivo Ma perché non posso colpire i mob E Lascialo tre e non ucciderlo Ragazzi Sono tutti quanti Insieme a me Che teneri che siete Quando fate così Ma io vorrei un piccone in realtà Vabbè Eh Signor Ma perché non posso uccidere i mob Allora ragazzi Gang Boy ci scrive Vieni Oh Che regalino Allora Lasciamo l'imbalia dei mob Vediamo da chi possiamo andare Abbiamo l'isola del verde Che ha bardato tutto in ossidiana E poi abbiamo i rossi Che sono dalla parte opposta Cioè ragazzi Il rosso ci ha targhettato Dalla parte opposta Della mappa Per venire a ucciderci Allora Vediamo chi è messo peggio Il messo peggio Tecnicamente È rosso E poi c'è Nico E i Matt Che ci stanno un pochino Puntando Non so cosa aspettarmi Allora Gang Boy Mi servi Piccolo Hacker Vai a Cheatare Vai a bardare Allora diamoli per favore L'ossidiana Al nostro piccolo Cheater E Sonico qua Ci sta un pochino Puntando un po' troppo Io faccio una cosa Eh Vado Ma siamo andati in due Gang Boy Questa non è la La tecnica adatta Eh Vabbè Qua ragazzi Mi sa che rischiamo Veramente di perdere Questo game Gang Boy Perché siamo in due Qua dai verdi Gang Boy Ma No ragazzi Cosa è successo Perché È venuto qua Nostra amichetta A trovarci Allora abbiamo ucciso Il bomber Siamo in due qua Gang È un problema Questa cosa Perché se ci vengono A distruggere Io ti ammazzo Gang Boy Sono tornati I nostri amici Sono tornati Io non posso uccidere la gente Ma perché sta cosa Io devo capire Perché io non posso colpire le persone oggi Boh Va bene Eh Ho qualche altro mezzo Oh Gang Boy Il nostro cheater di fiducia Ha ucciso tutti Oh Vuol dire che avrà citato Per davvero Io non lo so Aspetto che mi ritorni Un altro render Per Oh Attivate Ho la forza P L'ha visto prima ragazzi Che citava Eh Non volevo dirvelo Nel momento di In cui ho tagliato Vabbè A me viene da ridere Però Fidatevi Poi lo faccio bannare Visto che conosco bene Il proprietario del server Nessun patto Qual diavola Per il successo Ma ragazzi Sto Gang Boy qui È troppo un trollerino Abbiamo trovato anche la chest troll Allora Abbiamo farmato Un'altra enderpearl Visto che sono youtuber Mi arrivano ogni minuto Proviamo ad andare dai blu Proviamo ad andare dai blu Proviamo ad andare dai blu Ragazzi Proviamoci Allora vediamo perché Io non vedo Vedo Blanket Che ci ha appena visto Ehm Buongiorno signor Blanket No Guarda lei Signor Blanket Ma lei mi ha colpito Ma lei non può colpirmi Io sono The Mark Il vincitore Di ogni cubo Lucky È cattivissimo Ragazzi Ehm Blanket Questa non me l'aspettavo Da te No no Ragazzi Ma Gang Boy È impazzito È impazzito Ma Ma scriviamoli Ma hai attivato Ancora le hack Ha ucciso Da solo Due rossi Allora Io ho praticamente Ho fatto fuori i verdi Lui ha distrutto I blocchi Gli ultimi E i verdi Ma ha fatto fuori Un team da solo E Blanket Che è il nostro Master troll Gli ha scritto Ai le hack Ehm Ok Io sono abbastanza Senza parole Non avevo mai giocato Con un hacker Va bene Va bene Va bene Allora Proviamo ad andare noi Da blu da questa volta Eh Voglio provare a vincerla Voglio provare a arrivare Di là Corriamo Allora Andiamo 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 Ragazzi Quatti Quatti Lasciatemi a me i blu Mi raccomando Eh Gang Proteggi Proteggi Allora Lasciamo proteggere Gang Arriviamo Quatti Quatti Dall'alto Con calma E rompiamo tutto Shhh Shhh Come team Blanket Ma Gang Boy Ma da che lato stai Ma Gang Boy Ha scritto Team Ma vuole giocare contro di me Gang Boy Ma che team è Ma ragazzi Ma questo hacker qua Non capisce niente Bravo DeMarc Ha scritto Attenzione 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 DeMarc Li rimane l'ultimo blocco Il team di DeMarc E di Gang Boy L'hacker Portano a casa la vittoria Ma ragazzi Sto Gang Boy qui Comunque da bannare Tecnicamente Perché ha fatto delle cose Un pochino citerine Eh Non vorrei dire nient'altro Però Fatemi sapere qua sotto nei commenti Cosa avrei pensato di Gang Boy Perché secondo me Cittava da come ci siamo avvicinati Perché appena riconosceva L'NPC Impazziva E in poi Se avete notato Quando siamo andati dai verdi Avevo fatto fuori tutti quanti E poi ho fatto fuori anche i rossi Vabbè Io non ho parole ragazzi Saluto tutti quanti ragazzi Che sono qua in tab E Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non avete fatto Mi raccomando Scegliete uno o due video Qua davanti Se non avete fatto Iscrivetevi al canale Cosa sia rosso Da Marco è tutto Ciao Ciao